I stati membri chiaramente sono responsabili dei propri sistemi sanitari nazionali, ma noi possiamo anche proporre il pacchetto dell'Unione Sanitaria Europea nel pieno rispetto del trattato. E questo deve essere chiaro sin dall'inizio. Quale sarà il vantaggio per i cittadini? Dobbiamo parlare dei cittadini, è importante che ci concentriamo sui cittadini per capire quali saranno i vantaggi per loro. Ci sono tutta una serie di vantaggi di cui potranno beneficiare i cittadini europei. Adesso ne menziono alcuni di questi vantaggi, ad esempio le carenze di medicina e di dispositivi medici. Potremmo affrontare queste carenze, potremmo individuare queste carenze prima che siano evidenti. Poi potremmo monitorare anche gli indicatori sanitari degli stati membri, potremmo vedere quali saranno le capacità ospedaliere nei singoli stati membri. Potremmo essere certi che le cure siano presenti e disponibili per tutti i pazienti. Potremmo anche inviare delle task force sanitarie agli stati membri, qualora si verificano delle minacce sanitarie. Questo sarà un aspetto particolarmente importante. Potremmo anche fornire quel personale medico dotato delle competenze necessarie. Potrei continuare l'elenco per spiegare con cosa si tradurrà tutto ciò concretamente. Quando le cose saranno state valutate nei singoli stati membri, vi renderete conto come c'è un grande valore aggiunto che deriverà dall'Unione sanitaria europea, perché questo rafforzerà notevolmente anche la nostra solidarietà. Le agenzie più forti si tradurranno in maggior coordinamento ed una capacità reattiva in tempo reale.